Il senatore Napolitano oggi ha deciso di attaccare la Lega dicendo che siamo degli xenofobi. Potremmo ricordare al senatore Napolitano quando lui negli anni 50 esultava per l'invasione dell'Unione Sovietica nei paesi dell'Est, paesi liberi e indipendenti. Potremmo ricordare al senatore Napolitano quando lui, parlamentare europeo, veniva intervistato dalla televisione tedesca per le spese folli e per gli scontrini pazzi dei rimborsi che il senatore Napolitano si faceva rimborsare dall'Unione Europea. Potremmo ricordare al senatore Napolitano tutto quello che ha fatto durante quest'ultimo periodo da Presidente della Repubblica in cui ha massacrato i cittadini italiani, in cui ha permesso la legge Fornero, in cui ha autorizzato praticamente con l'aiuto di Renzi, di Letta e di Monti l'omicidio di tanti cittadini italiani. Non lo ricordiamo al senatore Napolitano tutte queste cose. Diciamo solamente una cosa, affermazioni come queste meritano solamente una querela e questo è quello che faremo.